salve a tutti amici sono paolo fiat e oggi voglio far vedere questo pezzo di orto il lavoro che ho fatto oggi voglio far vedere un pochetto com'è questo orto qua che avete visto che avevo pomodori avevo pomodori avevo le tegoline fagioline arrampicanti o il sedano che ormai è andato anche il sedano e vi faccio vedere un pochettino questa procedura allora qui ho trapiantato dei cavolfiori che penso di mangiare in primavera qui ho i pori che abbiamo piantato assieme guardate che belle piante che sono devo togliergli un po di erbo questo oggi gli ho fatto un'altra rincalzatura guardate che belli che sono si stanno chiudendo veramente tanto guardate questo che bello che è e questi qua si mangeranno a fine si mangeranno intardissimo 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 inverno quindi intorno a febbraio penso gennaio febbraio si mangiano e niente qui abbiamo il residui del mais che vi ho fatto vedere dovevo entrare a raccoltare del mais che ha avuto un casino di storie perché insomma sono stato stupido a fare quel video la insomma a menzionare quello lì perché volevo dirvi il guru ma comunque lasciamo stare non parliamo più di quelle cose la avete visto anche il video dove riflettevamo e vi facevo vedere vi dicevo e vi dicevo che non ho ovviamente le mie intenzioni non erano per offese non erano per niente ma era soltanto per ironizzare il tutto però comunque se avete visto quel video lì che è uscito domenica scorsa avete ben capito tutto ecco adesso qui stiamo vediamo il mais c'è il mais che è maranello marano che comunque è finito questo andrà tagliato alla base andrà biotriturato quando avrò il biotrituratore biotrituratore che dovrò andare a prendere ma adesso quando avrò il biotrituratore comunque ne parleremo e vi farò anche un video adesso qui ho ancora dell'altro dell'altro sedano c'è un pomodoro che andrà tolto i ferri qui i tondini vanno tutti recuperati qui ho degli altri porri che comunque adesso che li ho liberati li farò una rincalzatura poi lentamente lentamente cresceranno anche questi porri qua insomma l'orto è un po povero questo pezzo di orto qua soltanto perché è povero questo pezzo di orto qua perché non ho piantato niente perché c'erano i pomodori l'ho proprio ripulito oggi vedete qui questa è tutta la parte che ho tagliato tutto col decespugliatore qui c'erano erbacci vedete ho tagliato tutto col decespugliatore qui c'erano tutti quanti i residui delle erbe i pomodori li ho già portati a casa li ho già messi mucchiati che poi li biotriturirò anche quando andrò a prendere il biotrituratore io ho tutto tagliato il residuo con il decespugliatore ho fatto tipo un modo di macinazione di trincia quindi ho trinciato il tutto e adesso non resta altro che lasciare qui poi farò due diversi trattamenti al terreno due diverse cure al terreno una cura che voglio fare è calce viva quindi disinfettare andare a pulire un po' il terreno in maniera pesante perché voglio pulire il terreno perché mi sembra perché il terreno ha lavorato tanto quindi andrò a mettere calce sulle varie aiuole e poi ci metterò l'etame freserò e poi una bella botta di salattico pelletato oppure compost come rinforzo ecco quindi niente di che abbiamo visto i nostri bellissimi porri adesso vediamo qui qui ho piantato un altro pezzo di orto un altro bellissimo pezzo di orto invernale che è dei broccoli di primavera quindi bassanese di primavera per capirci quindi è un broccoli che andrà mangiato a febbraio questo vedete ho piantato un po' di piante così a caso questo qui ovviamente si compra perché la semente non si trova sono selezionate è tutto un casino ecco sono veramente soddisfatto per i porri perché sono veramente belli come porri sono dei porri che hanno spinto veramente tanto sono stati ovviamente concimati con del compost sono stati messi il compost piantati sul solco riempito il solco di compost e poi rincalzati ovviamente acqua ne hanno presa tanta di acqua hanno preso anche macerato di scusate hanno preso anche il percolato dell'ombra compostiera e via dicendo qui ho questa pianta qui ovviamente questo fiore qui guardate che bello che è nato da solo non l'ho fatto niente io è nato da solo cercherò di recuperare i semi se posso o se no lo lascerò andare quando appassirà finirà in compostiera e buonanotte a tutti ecco comunque è stato veramente bello era in estate c'erano i bombi c'erano le api che ci andavano un po' a giuronzolare è stato veramente utile scusate è stato veramente utile per andare a impollinare andare a impollinare fagiolini andare a impollinare i pomodori tutte quelle cose là che serviva ovviamente che le api facessero e veramente piantare i fiori nell'orto secondo me è la cosa più bella che potete fare perché aiutate la natura aiutate la natura anche a fare una piccola bordura a piantare dei fiori qua e là sugli angoli a fare magari non so un confine tra un confine tra un so una cultura e l'altra magari mettete dei fiori aiutano veramente le api che magari in quella zona non trovano niente da cibarsi magari vengono da voi a cibarsi perché passeranno dal vostro fiori poi passeranno sui vostri ortaggi e poi andranno via con le polline però vi hanno impollinato intanto le culture quindi è veramente ottimo questa cosa qua io veramente i fiori cerco di metterli sempre dappertutto se posso ovviamente cerco di metterli dappertutto anche semplicemente i girasoli qualsiasi tipo di fiore io lo metto e via dicendo se dopo nascono da soli meglio e vuol dire che vuol dire che la nostra terra nostra natura è incontaminata questo qui è in poche parole sono i fagioli che ho raccolto già ho mangiato due volte i fagioli da qui fagioli veramente buoni freschi ovviamente non di qualità perché comunque in autunno si raccolgono fagioli diciamo magari un po' più verdini magari un po' più piccoli però comunque veramente ottimi li ho cucinati semplicemente fatti bollire poi conditi con un po' di carota sedano e cipolla e un po' di sale e pepe li ho mangiati così in insalata eccezionali ottimi adesso queste piante qua o andranno tagliate e messe nel compost che comunque hanno affissato bene l'azoto nel terreno quindi mi hanno ottenuto un terreno veramente bello nutrito di azoto le prossime culture candrometri qua in primavera saranno ottime ecco io adesso questi qua o li sfalcio con il decespugliatore quindi li trincio con il decespugliatore poi li lascio qua per terra e poi quando sarà in primavera verranno interrati quindi finiranno il loro ciclo qua lasciando tutto l'azoto che hanno oppure verranno estirpati a mano e portati in compostiera e messi in compostiera a marcire che ha decomporsi in gergo tecnico decomporsi ecco questi porri qua mi piacciono già un po' meno perché comunque sono dei porri un po' più poveri un po' più piccolini però non c'è nessun problema tanto li andremo a mangiare a febbraio quindi possono stare qua tutto il tempo che vogliono ecco niente questa rete elettrosaldata qui dove avevamo i fagiolini metro o fagiolini spago e anche dei pomodorini in questa parte qua la sto ripulendo andrò a togliere vedete quegli ultimi spaghi che ci sono lì andrò a togliere quegli ultimi spaghi che ci sono lì andrò a fare un po' di pulizie magari domani e niente pulirò tutto quanto qua e dopo basta qui le concimazioni che andrò a fare comunque farò sicuramente un pezzo di video sulle concimazioni che voglio fare comunque vi dicevo che voglio disinfettare un po' il terreno da varie culze che ci sono state magari varie parassiti varie funghi che ci possono essere con della calce viva quindi mettere un bel po' di calce viva almeno per questo terreno qui almeno un 5 kg di calce viva le la voglio spruzzare sopra e dappertutto e poi ovviamente il classico letame il classico letame poi quando si farà la prima fresatura il letame andrà sotto e quindi inizierà a decomporsi con tutti i lombrichi che lo mangeranno andrà a decomporsi e arricchire il terreno e poi ovviamente metterò se ho compost oppure un sacchetto di stallattico pellettato che andrà ad arricchire ulteriormente il mio terreno perché comunque i pomodori mangiano tanto hanno bisogno di calcio i nostri fagiolini anche quelli hanno mangiato tanto dal terreno anche se hanno lasciato un po' di azoto però hanno preso sostanze che magari loro servivano lasciandoci l'azoto quindi magari carbionio o altre cose a noi ci manca quindi mettendo il stallattico pellettato oppure mettendoci il letame apportiamo parecchi elementi nutritivi che ci servono nel terreno per la cultura primaverile ovviamente la concimazione la facciamo verso gennaio iniziamo già a gennaio a fare la concimazione poi andando avanti si fa la frisettura e l'interramento di tutta la sostanza organica che ci va io adesso non faccio nient'altro che magari potrei coprire il terreno con cartoni che così tengo l'umidità sotto o anche lasciare semplicemente stare se crescono le erbe infestanti lasciare proprio così quando crescono le erbe infestanti magari fra un mese do una sfalciata con il gespugliatore e poi inizio a fare la concimazione quella parte l'ha andrà tutta biotriturata come stavo dicendo andrà tutta quanta biotriturata quella parte del mais andrà biotriturata comunque ci saranno penso uno o due video sul biotrituratore come eliminare gli scarti dell'orto col biotrituratore come smaltire molta ramaglia in poco spazio quindi vi farò dei video comunque questo era un video aggiornamento sull'orto questo è il lavoro che ho fatto oggi ho tolto tutti i pomodori ho sfalciato tutto quanto col gespugliatore e ho rastrellato un po' dopo il resto comunque se rimane roba sulla terra non fa male va a marcire poi andremo ovviamente a riportarla è soltanto umido quindi non vado a farci niente ecco spero che questo video vi sia stato utile non avete visto me come tante persone mi hanno criticato anche e mi hanno detto anche perché non ti fai vedere in faccia e inquadri la telecamera ma è soltanto su quello che stai facendo perché io vi dico la verità non sono io il soggetto del video quindi a me non ve ne fare niente se vedete a me voi guardate il video perché vedete quello che ho fatto quello che è quello che insomma è il soggetto del video ecco non sono io ovviamente quel coso del video ecco se non vedete a me non importa ecco ovviamente il lavoro l'ho fatto tutto quanto io qui e niente spero che questo video vi sia stato utile comunque bellissimi questi broccoli bellissimi anche i porri e i cavoli fiori qui crescono lentamente li mangeremo in primavera e niente ho ripulito tutto quanto sistemeremo le strutture qua dei pomodori faremo tante altre cose un po' alla volta quando c'è tempo quando c'è tempo questa è una stagione in cui ci sono pochi lavori da fare però quei pochi lavori che ci sono da fare si fanno bene in previsione delle prossime stagioni ecco niente per questo video è tutto io sono Paolo Fiat e vi saluto e niente ciao a tutti amici da Paolo Fiat è tutto ci vediamo alla prossima ciao a tutti